Quello che oggi andiamo a iniziare in questo format di due ore è un corso appunto teorico-pratico di sintesi craniosacrale. Vi parlerò delle basi perché secondo me sono fondamentali, quindi fare questo percorso, questo viaggio partendo dalle basi, che sono le basi che abbiamo studiato tutti, credo, quando abbiamo fatto il corso di osteopedia nei 5-6 anni, e andare oltre rispettando però quelli che sono i criteri dati dai maestri, andare oltre per parlare appunto di quella che è stata poi la mia sperimentazione, il mio punto di vista e ciò che secondo me è utile e che funziona con i pazienti quando li tratto. Quindi noi isoleremo in questo contesto un sistema che definiamo sistema craniosacrale, sapendo benissimo che lo isoliamo in questo contesto per poi poterlo analizzare nel dettaglio, studiare, interpretare e poi però integrarlo sempre in una connotazione globale, in relazione con la periferia, in relazione con gli altri sistemi fasciali. Ne convenite con me nel dire che osteopatia craniosacrale significa niente, cioè significa tutto e niente, significa sì, studiare appunto un meccanismo per poterlo interpretare nel dettaglio, per poterlo però poi integrare con gli altri due sistemi. Gli altri due sistemi sono il sistema fasciale strutturale e il sistema fasciale viscerale.